Buongiornino, come state? Io oggi sono molto felice perché ieri è stata una giornata davvero speciale, come tutte le mamme sono stata coccolata dalle mie figlie, mi hanno svegliato le mie ciccine, auri e mi hanno veramente stracoccolato. Poi ho deciso di fare una sorpresa alla mia mamma, le ho portato un pranzo, le ho fatto una sorpresa e ragazzi ho visto piangere mia mamma tre volte nella mia vita perché alla fine comunque lei è una figlia del dopoguerra e tosta, una delle quali è stata ieri, è stato veramente emozionante anche per me e stavo proprio riflettendo che stiamo davvero passando un periodo pazzesco, pazzesco proprio sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i fronti. Vabbè, comunque è stato veramente bello abbracciarla, molto emozionante. Questo nuovo periodo ho deciso di affrontarlo con grande positività, ovviamente l'incertezza del futuro ce l'abbiamo tutti, però bisogna anche per i nostri figli fargli vedere che ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Uscirò sempre con la mascherina, uscirò sempre con i miei guantini, mi disinfetterò le mani, farò attenzione e terrò la debita a distanza da tutti finché non troviamo un vaccino. Voglio affrontare questo periodo con grande responsabilità ma senza mai buttarmi giù. Mi raccomando, carichi tutti eh. Carichi, dai!